Salve signori, benvenuti in questo nuovo video. Spesso mi avete sentito dire di quanto può essere importante avere un bel sorriso, quindi conseguentemente è molto importante anche avere una bocca sana, perché effettivamente se si ha un alito un pochino pesante si tende ad allontanare anche gli altri. Pensiamo ad un appuntamento galante, se ci dirigiamo verso questa persona anche per salutarla, magari ci mettiamo in macchina, se l'alito è disdicevole questa persona se ne accorge immediatamente, quindi una delle priorità è quella di prendersi cura della propria bocca e del proprio sorriso e quindi dell'igiene orale. Le cause di un alito spiacevole sono due sostanzialmente, una è la scarsa igiene orale e l'altra è il tipo di cibo che assumiamo. Presumiamo che stiamo appunto andando a un appuntamento galante e ci viene il dubbio di avere l'alito non profumato. Possiamo effettuare qualche test, ad esempio se siamo ancora a casa il primo test che possiamo fare è quello di chiedere a qualcuno della nostra famiglia di provare a dirci che cosa ne pensa, se può andare oppure no. Però in questo caso effettivamente dipende tanto dal rapporto che avete con questa persona, perché magari lo chiedete alla mamma, alla sorella, al fratello o a chi per essi e effettivamente se queste persone hanno paura di ferire i vostri sentimenti magari vi possono dare una risposta che non è la verità, per cui si può fare un'altra cosa. Il secondo test che possiamo fare è quello di provare a respirare all'interno di un bicchiere. Mi raccomando non usate le mani per fare... Perché non sentirete solamente il vostro alito, ma se vi siete appena lavati le mani o vi siete appena fatti la doccia sentirete il profumo del sapone o del bagnoschiuma che avete sulle mani mischiato al vostro alito. Quindi diciamo che non è veritiero il risultato. Se siete a casa avete la possibilità di prendere un bicchiere e respirare all'interno del bicchiere. Proviamo a respirare all'interno. Ovviamente non deve essere appena lavato fuori dalla lavastoviglie perché magari anche qui può essere che il risultato finale non sia quello che sentiamo il nostro alito, ma sentiamo il detersivo per il bicchiere. Questo è un test abbastanza affidabile, però è anche vero che magari ci viene il dubbio mentre siamo da qualche parte e non abbiamo la possibilità di avere un bicchiere sotto mano. Quindi arriva un altro test che possiamo fare. Un altro test è usare il nostro avambraccio, tirare fuori la lingua quanto più possibile, ovviamente recatevi alla toilette per fare questo test, e dare una passata sull'avambraccio. Cercate di andare fino in fondo e poi testiamo. Anche qui fa molto l'odore della nostra pelle, però è anche vero che qui abbiamo un test affidabile. laviamoci poi perché se magari l'esito non è positivo, magari rischiamo di avere qualche contrattempo. In alternativa possiamo usare un tovagliolino di carta. Andiamo con un lembo del tovagliolino di carta a passarcelo quanto più in fondo riusciamo. Mi raccomando, non ingliottiamolo o non arriviamo troppo in fondo per stare male. Anche qui lo usiamo. Quindi, una volta terminati questi test che potete fare, facciamo un passo indietro e arriviamo a preoccuparci della nostra igiene orale. L'igiene orale è molto importante, appunto, come dicevo. Bisogna lavarsi i denti più volte al giorno per essere sicuri di avere un alito fresco. Ci vengono incontro diverse opzioni, nel senso abbiamo gli spazzolini, sia quelli manuali che quelli elettrici, abbiamo i fili interdentali, ci sono gli idropulsori, che sono quelle macchine tipo gli spazzolini, ma che lanciano, sputano l'acqua molto forte tra le fessure dei denti. E molto spesso vengono venduti in piccoli kit dove da una parte c'è lo spazzolino da denti e dall'altra c'è l'idropulsore. Io personalmente ne ho uno di questi. In genere è bene anche aspettare una quarto d'ora, venti minuti dopo aver mangiato, prima di lavarsi i denti, perché la bocca rilascia degli acidi durante la digestione meccanica che in qualche modo rischiano di favorire il danneggiamento dei denti se li sfreghiamo poi con uno spazzolino particolarmente duro, perché anche gli spazzolini non sono tutti uguali, sono quelli morbidi, quelli medi e quelli duri. Io utilizzo uno spazzolino elettrico dalla testina rotonda, che ha anche un timer. Ormai è diventata una cosa praticamente comune che all'interno degli spazzolini da denti ci sia una sorta di avviso per chi lo sta usando quando ha terminato il ciclo di pulizia di quella zona della bocca, chiamata quadrante. Quindi magari sono 30 secondi e quando lo spazzolino ci darà il segnale passiamo alla zona successiva. Dopo appunto essersi lavati i denti con lo spazzolino possiamo passare al filo interdentale, all'idropulsore per esempio, oppure ad altri piccoli espedienti, che possono essere questo, che è una sorta di filo interdentale che permette di essere tenuto come se fossero stuzzicadenti, ma ci permette di arrivare in mezzo ai denti più facilmente, senza dover fare delle manovre particolari con le mani. Ci sono, questi sono chiamati soft speaks, sono usati tipo stuzzicadenti, ma poi alla fine servono proprio come il filo interdentale. E ultimo, ma di certo non per importanza, c'è il pulisci lingua. La lingua è il terreno più fertile e prosperoso per i batteri e quindi conseguentemente anche per ciò che è i residui e tutta la flora e fauna della nostra bocca. Per cui con il pulisci lingua andiamo in fondo e cerchiamo di pulire. Questo è un procedimento che può essere fatto anche con lo spazzolino da denti. Grazie per aver guardato fino a qui e ci vediamo al prossimo video. Arrivederci! Grazie!